Sistemi informatici più resilienti per servizi al cittadino più sicuri. Grazie al nuovo avviso del PNRR prosegue il percorso di migrazione in cloud di dati e servizi critici e strategici delle pubbliche amministrazioni centrali verso le infrastrutture del polo strategico nazionale. L'avviso pubblicato sul sito del Dipartimento per la trasformazione digitale ha una dotazione finanziaria complessiva di 224 milioni e 700 mila euro. Per aderire le pubbliche amministrazioni centrali interessate hanno tempo fino al 31 maggio 2024. Per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione Alessio Butti, la pubblicazione di questo avviso è un passo fondamentale per il percorso strategico di trasformazione digitale del Paese portato avanti dal Governo. Con le soluzioni tecnologiche innovative si rafforza l'impianto complessivo della digitalizzazione del sistema Paese a vantaggio di cittadini e imprese. Possono aderire anche le singole articolazioni organizzative di primo livello di ogni pubblica amministrazione centrale interessata, incluse le singole direzioni generali, dipartimenti o comandi.